Noto 43enne minaccia una donna e il figlio 15enne con un tubo di ferro, denunciato. Alla termine di scelera attività investigativa, gli agenti del commissariato di Noto hanno denunciato un 43enne residente a Noto per reati di lesione personale dolosa e minacce aggravate. Nel pomeriggio dello scorso 26 settembre, gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di una donna che poco prima, insieme al figlio 15enne, era stata vittima di un'aggressione da parte del 43enne. Le indagini, svolte nell'EA in mediteranza, hanno consentito di accertare che l'uomo era stato sanzionato per infrazione del codice della strada, mentre si trovava alla guida di uno scooter di proprietà della vittima e quest'ultima, obbligata insolita al pagamento della sanzione, aveva chiesto di incontrarlo per raggiungere un accordo, ma l'uomo dava in escandescenza credendo lei e il figlio e minacciandole con un tubo di ferro. Nella giornata di ieri, gli agenti del commissario di Noto hanno denunciato un 29enne ganese per il reato di danneggiamento gravato e un 30enne nigeranio per il reato di tentata legione personale. I due giovani, entrambi ospiti del centro di accoglienza migranti Oasi Don Bosco, incontrati a Pianette, hanno avuto un acceso di verbio per futuri motivi legati a scommesse sportive, mentre uno dei due ha lanciato un grosso sasso in direzione dei connazionali senza parole di riuscire a colpire nessuno. L'altro ha scagliato un sasso che colpiva la vetrata della sala, benessere danneggiandola.